Buongiorno a tutti, sono Angelo Borgonovo e mi presento con questo video come artista e pittore. Ho 50 anni e da 30 anni faccio il pittore. L'idea del video viene per poter presentare in altre occasioni tutta la mia esperienza artistica. I quadri, le tele, i lavori per l'arte cristiana, i lavori astratti, i lavori con tematiche contemplative e ultimo recentemente i lavori sulla natura. Sì perché ultimamente ho cercato di ritrovare un entusiasmo che ormai sinceramente avevo perso nel disegnare e nel lavorare nella natura. Questo non toglie la trasfigurazione della realtà visiva in una realtà che riporta tutte quelle esperienze personali e culturali che ho potuto fare nei lavori di committenza. Perciò queste ultime opere, questi ultimi lavori sono caratterizzati da un immergersi in una realtà concreta, reale proprio, cioè vado proprio nel luogo. E lì il contatto diretto mi permette di rivivere certe sensazioni che da giovane entusiasta avevo molto molto gradito e che poi ultimamente non riuscivo più a percepire. Ho trovato interessante questa esperienza e perciò come le altre esperienze pittoriche, le astrazioni, le tecniche pittoriche che ho potuto affrontare, perciò penso che sia interessante presentarle con dei video. Questo permetterà di farmi conoscere e conoscere nuove persone, spero anche nuovi artisti, con i quali confrontarci e magari scambiare attraverso la rete i video e le immagini delle proprie esperienze pittoriche. Per adesso vi saluto e spero di incontrarvi presto con la presentazione delle mie tele, delle mie opere. Salve a tutti e arrivederci alla prossima videata.